stasera è dura ragazzi stasera è veramente dura immagino che siate tutti molto incazzati lo sono anch'io ma non per la coppa italia come ho detto nella live dell'altro dell'altro giorno della coppa italia me ne frega il giusto cioè l'ho sempre considerato un trofeo minore un trofeo buono per gli anni di banterira un trofeo buono per le stagioni in cui non vinci niente come premio di consolazione cosa che mi fa pensare che potremmo anche quindi rimpiangerlo a fine anno perché questa stagione sta prendendo una piega decisamente non buona ma come detto sono incazzato per la per la figura di merda perché queste sono figure di merda veramente veramente gratuite figure di merda gratuite ed io già so che cosa diranno tutti colpa di pioli colpa dei cambi colpa della formazione colpa del modulo io però ripeto non per fare il piolista a tutti i costi ripeto non me ne frega niente ragazzi non è quello l'intento oggi voglio semplicemente semplicemente allora interpretare un ruolo complicato quello del del lucido perché sono incazzato esattamente come tutti come tutti voi però sclerare sarebbe fa sarebbe facile sarebbe soprattutto molto inutile e soprattutto non chiarirebbe quello che non sta funzionando perché è evidente che quest'anno qualcosa non sta funzionando è evidente che questi risultati non sono un caso ed è evidente che bisogna cambiare qualcosa parto dai dati perché per questa sera guarda voglio farmi del male voglio partire dai dati allora il miran questa sera ha fatto 32 tiri 32 in 120 minuti di questi 32 tiri 8 importa cosa vuol dire quindi vuol dire che noi il tre quarti dei tiri che facciamo li buttiamo fuori carità è una statistica che parla soltanto di questa partita però è molto indicativa della della lucidità che mettiamo in campo in determinati momenti perché poi è quello c'è il milan questa questa sera con la formazione iniziale secondo me ha fatto una partita onesta possiamo dirlo tutto sommato ha preso pure un palo con decetelare la chiusa anche bene perché secondo me con i titolari gli ultimi minuti dei regolamentari sono stati fatti anche bene poi ai supplementari ai supplementari non si capisce che cosa sia successo così scomparsi dal campo sconclusionati confusionari arruffoni possiamo usare tutti i sinonimi che vogliamo ma il fatto è proprio quello c'è al di là dei soliti problemi la difesa le assenze cioè il milan di quest'anno è una squadra che nei 90 minuti non ha continuità in maniera inspiegabile una squadra che è una squadra che porca puttana ha preso i stessi vizi dell'inter dell'anno scorso cioè è una squadra che fa benissimo determinati spezzoni di pari di pari di pari di partita e poi cioè arrivano i momenti in cui tutti impazziscono in cui tutti incominciano a fare cose a caso cioè io ho visto almeno non lo so almeno quattro tiri finiti tipo al parcheggio di san siro stasera non sto scherzando tra primo secondo tempo e tiri proprio ma veramente complicati cioè tiri di una di una difficoltà assurda eppure continuiamo in perterrito a prenderli continuiamo in perterrito a ad avere questi cali inspiegabili e su quello potrei anche andare d'accordo con chi dice colpa di violi perché alla fine se se la squadra non ha continuità dei 90 minuti se non riesce effettivamente a a giocare tutte le palle le partite come dovrebbe una parte di respon di responsabilità c'è l'allenato l'allenatore per per forza e questi secondo me sono stati i nostri demeriti poi però non per fare il piangina perché ripeto non voglio fare la parte di quelle abbiamo dominato per 70 minuti anche perché ripeto contro il torino in 10 in casa trattasi di figura di merda perché di quello si tratta è stata una figura di merda che sia chiaro fortunatamente arrivata in coppa italia non in campionato però c'è anche una componente di sfortuna voi giustamente direte va bene però la fortuna devi essere anche brava a cercartela per l'amor di dio però noi cioè almeno io sento elogiare da da molti una squadra che da due mesi non fa altro che vince le partite in questo modo sculando gol dopo essersi difesa per le 90 minuti ecco ogni tanto potrebbe anche succedere a noi ecco è il periodo in cui questo non non accade purtroppo in questo momento il milan se trova non lo so 50 euro per terra sti 50 euro qualcuno ci ha sputato sopra e ci hanno e ci hanno l'ebola e oppure sono 50 euro della 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 mafia che poi arriva a mandare i sicari c'è ripeto in questo momento e oltre ripeto ai nostri demeriti tutto quello che può andare storto va storto è un momento in cui non gira bene poco come l'anno scorso più o meno perché poi allo stesso periodo è arrivato è arrivato il momento critico poi e poi e poi arriva maldini con le sue dichiarazioni pre partita che già so che avranno fatti incazzare molti ma di ha detto non facciamo mercato e il mercato il mercato è chiuso dobbiamo essere sostenibili eccetera tra ok a parte l'ovvietà sulla sostenibilità che maldini è costretto a ripetere ogni volta perché la gente evidentemente non ha ancora compreso bene in quale campionato siamo e qual è la situazione globale proprio però ok maldini dice anche non faremo mercato e tutti a di ma come si fa a non fare il mercato questa squadra ha bisogno di rinforzi questa squadra ha bisogno di di nuova linfa eccetera eccetera allora io molto sommessamente faccio notare che questa sera per la prima volta abbiamo visto vranche titolare e vi dirò non mi è neanche dispiaciuto onestamente ho visto de chetelare non mi è dispiaciuto nel primo tempo quando ho giocato con le riserve ma poi con i titolari è diventato un fantasma completamente un fantasma questo che cosa vuol dire vuol dire che il milano i giocatori li avrebbe pure ma che molto semplicemente dovrebbero essere inseriti nel meccanismo c'è decetelare alla fine cioè a me è sembrato proprio il classico pesce fuor d'acqua cioè non riusciva minimamente ad intendersi con leao con giru con teo proprio intesa zero intesa zero tra 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 chars e e gli altri tre quindi quello che chiedo è siamo sicuri che servano realmente interventi sul mercato o magari dobbiamo effettivamente provare a valorizzare un po di più quello che già abbiamo in rosa perché a me questi non sembrano dei giocatori brutti onestamente a me sembrano dei giocatori che per battere il torino e la roma possono essere anche sufficienti poi certo se mi portate un esterno destro e vendete messias al primo che offre 5 euro che veramente non lo posso vedere più questo un giocatore cosa fa messias sul gol meglio che non lo commento quindi ripeto se mi portate un esterno destro al posto di me di messias mi fate solo contento però detto comprare tanto per secondo me non è la soluzione è chiaro se a gennaio hai la possibilità di aggiungere un giocatore importante un giocatore che effettivamente ti migliora la rosa va bene e sono abbastanza sicuro che se il milan avesse effettivamente la possibilità di arrivare un giocatore del genere lo prenderebbe pure però se devi aggiungere altri come dire altri franchi se devi aggiungere il meite della situazione se devi aggiungere il manzukic della situazione ragazzi fidatevi di me restiamo così restiamo così che è inutile sono acquisti inutili il mercato a me va bene il mercato però se aggiungono se il mercato aggiunge effettivamente se il mercato troppa delusione troppa delusione ripeto non per la coppa per la coppa per la coppa italia troppa delusione perché per la piega che sta prendendo tutta questa stagione una piega che potrebbe tranquillamente essere evitata ma che deve essere evitata con un peto con con delle con delle mosse mirate perché a questa squadra ripeto basta veramente poco secondo me per rimettersi in moto serve un po di fortuna un avvenimento magari positivo che te la fa girare serve soltanto quello questo punto possiamo solo sperare che che tutto questo arrivi ripeto non dal mercato maldini è stato chiaro non aspettiamoci niente magari è predattica magari no ma non sono queste le dichiarazioni che mi fanno inca incazzare io mi perché vorrei vedere più giocatori nelle rotazioni vorrei vedere qualcosa di diverso ogni tanto questa sera ci abbiamo provato a mettere in campo qualcosa di diverso almeno dal punto di vista tattico e onestamente i risultati sono stati un po nì vediamo vediamo insomma se la cosa verrà riconferri confermata vediamo che cosa succederà nei prossimi nei prossimi giorni quantomeno c'è ottimismo sui rinnovi di leao e ben nasero ma quello è un argomento che trai che tratterò prossimamente in un altro video detto questo vi ringrazio sempre forza mila ragazzi ricordate nonostante tutto e soprattutto in questi momenti